buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è martedì 30 aprile 2000 e 24 anche aprile anche aprile se ne va ebbene vediamo subito chi si festeggia oggi è un santo che è conosciuto anche dalle nostre parti si tratta di un papa ed ecco qui la sua immagine e papa pio quinto un santo che visse nel sedicesimo secolo al secolo antonio ghisleri nobile famiglia di bologna domenicano fu appunto fu ebbe una vocazione ed entrò nel convento dei domenicani e fu anche vescovo di alessandria e il papa lottò soprattutto contro l'eresia luterana pubblicando il catechismo del concilio di trento e difese la cristianità dall'assalto dei turchi sconfitti poi a lepanto da allora la vergine maria fu onorata con l'appellettivo di auxilium christianorum e fu istituita anche la festa del santo rosario che si celebra ancora oggi il 7 ottobre e per quanto riguarda i fanesi possono ammirare l'immagine di papa pio quinto nella pinacoteca di san domenico in un quadro dove appunto è ritratto san domenico insieme al papa che guarda lontano e all'orizzonte si vede uno squarcio di mare che ovviamente allude alla battaglia di lepaton quindi un bellissimo quadro che va interpretato anche nel suo giusto significato ed ora vediamo le previsioni del tempo dico subito che oggi c'è tempo buono sulle marche ecco qua la grafica tempo stabile soleggiato su tutto il territorio regionale clima molto mite i valori sono 10 la minima 20 20 la massima ma saliranno anche a livelli superiori si parla anche addirittura di 26 gradi in alcuni momenti e in alcuni punti della regione i venti sono deboli da sud e sud est per quanto riguarda le coste e da est per quanto riguarda l'entroterra il sole è sorto alle 6 e tramonterà alle 20 08 questo è un po' l'andamento della giornata e quindi godiamoci questa bella giornata di sole intanto leggiamo i giornali e vediamo l'apertura sulla pagina del Corriere Adriatico di oggi per quanto riguarda Fano penalizzate le utenze domestiche l'aumento della tari fissata al 4,4% è un titolo che fa un punto parziale sul provvedimento che è stato assunto ieri sera dall'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano d'ora in avanti il Consiglio Comunale non si riunirà più fino alle prossime elezioni cioè fin dopo giugno quando sarà composto da nuovi consiglieri ebbene ieri si sono approvati i bilanci soprattutto il bilancio consuntivo del 2023 e si è approvato anche l'aumento della tari della tassa per la raccolta dei rifiuti una tassa che il cui ammontare non dipende dal Comune perché dipende dall'autorità nazionale che è la Rera e la Rera ha fissato l'aumento al 5,6% ma il Comune di Fano è riuscito a ridurre questa percentuale applicando i soldi discorsi dalla lotta all'evasione degli anni scorsi un importo considerevole pari a 1.400.000 euro con il quale si è riusciti a ridurre l'aumento di 1,2% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 2,2% per quanto riguarda le utenze non domestiche ed è questo appunto il risultato che è stato ottenuto da questa manovra approvata ieri sera in Consiglio Comunale poi vedremo anche come il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato il provvedimento dell'aumento della TAI però assumendo altre decisioni e le vedremo in seguito passiamo alle altre notizie e vediamo un po' le iniziative che si svolgeranno nel mese di maggio cioè le manifestazioni, gli eventi e si parla del Fano Festival del Fitness ecco qua il titolo una iniziativa sportiva che si organizzerà in tre punti della città una a tre giorni per tutti i gusti e soprattutto per ogni età all'insegna dell'esercizio fisico è un po' questo il contenuto di questa manifestazione che si svolgerà dal 17 al 19 maggio prossimo al Pincio saranno allestite are training per attività ginniche incentrate su forza ed esercizio fisico al Pincio ed ora andiamo alla Darsena Borghese dove troveremo il post yoga il Mindfulness oltre che sedute specifiche per le donne e per la danza e poi ancora alla Corte Malatestiana qui ci sarà teatro e un confronto su temi legati all'allenamento e alla nutrizione sono tre aspetti per un vivere sano per un benessere fisico che potrà essere coltivato attraverso l'esercizio sia del fisico stesso ma anche della mente ed ora andiamo invece ad un altro ad un altro evento ad un'altra manifestazione e in questi giorni oggi per esempio è la giornata del jazz come lo era anche ieri il jazz suonato da giovanissimi e pensate che le manifestazioni che si svolgono oggi al Teatro della Fortuna saranno inaugurati da una band jazz della scuola media Gandiglio dove ci sono corsi di musica e quindi questi ragazzi potranno avere la bellezza la felicità di esibirsi anche in pubblico ebbene il jazz suonato dai giovanissimi lo spettacolo con tre orchestre oltre alla banda del Gandiglio ci sarà l'orchestra Marchetti di Senigallia e poi ci sarà anche un altro gruppo che è l'orchestra Mosaico anche questa è molto famosa dunque il jazz è suonato da giovanissimi vale la pena andarli a sentire perché poi la passione del jazz bisogna coltivarla da giovani in modo che poi si riesca a capire il senso l'atmosfera la suggestione di questa musica non sempre facile accogliersi e quindi è importante vediamo anche un articolo di cronaca un tamponamento a catena si è verificato ieri sulla statale adriatica nord di Fano sono state coinvolte tre auto dirette a Pesaro una settantenne è finita all'ospedale si tratta di un incidente che si è verificato ieri intorno alle 10 con un tamponamento appunto che ha coinvolto tre autoveicoli ed ora passiamo alle altre località dell'entroterra passiamo al Fosso Ombrone al Fosso Ombrone si parla del carcere si parla del carcere perché l'istituto è stato fatto visita dall'onorevole Antonio Baldelli che ha portato con sé una buona notizia cioè fondi soldi a disposizione del super carcere soprattutto sono in arrivo 18 agenti ed è veramente un importante contributo che lo Stato dà alla sicurezza di questo carcere soprattutto alle condizioni di lavoro degli agenti che erano già in servizio fondi per far posto anche a 81 nuovi detenuti e quindi si amplia la capacità di contenimento del carcere di Fosso Ombrone ma questo non basta perché la cosa più importante sono queste 18 unità operative in più e qui vediamo appunto l'onorevole insieme alla direttrice del carcere e ad altri personaggi come Marta Bianco e Nicola Luzzi Daniela Minelli Antonio Baldelli appunto sono le due autorità vediamo ora la pagina di Frate Rosa artigiani della ceramica Frate Rosa è molto nota per la fabbricazione delle ceramiche fa un gemellaggio entra in rapporto con Grottaglie una località pugliese Frate Rosa Slow Food è la cittadina pugliese insieme per la promozione ebbene una collaborazione che può così far conoscere meglio e soprattutto in tutte le sue aspetti artistici e artigianali la produzione delle ceramiche di queste due località a Mondolfo hanno partecipato in 450 alla camminata solidale con Francesco Francesco Menotti 55enne Mondolfese che aveva lanciato un appello perché questa camminata fosse molto molto partecipata ed è una camminata che veniva fatta per attirare l'attenzione sulla SLA una malattia lo sappiamo tutti neuro degenerativa progressiva che in Italia sta colpendo ben 6.000 persone ed è veramente una malattia terribile una malattia molto grave passiamo ora a Senigallia vediamo come le due principali manifestazioni estive di Senigallia ricevono dei contributi si tratta del Summer Jets e del raduno Early delle Early Davidson queste moto americane che alimentano la passione di tante tante persone per gli eventi dunque ecco 600.000 euro per la Kermessa anni 50 una promozione da 150.000 euro ovvero il Summer Jets però non tutti sono d'accordo non sono d'accordo per esempio c'è il responsabile della CISL Giovanni Giovanelli che i fanesi conoscono perché per tanti anni ha diretto anche la delegazione CISL di Fanu ebbene Giovanelli dice non bisogna spendere tanti soldi per promozione che poi in realtà lasciano il tempo che trovano ci sono altre priorità vediamo cosa dice Giovanelli in modo più preciso Giovanelli referente della CISL invita a fare una riflessione sui soldi spesi per eventi in piena crisi economica è il momento ha detto di pensare ad eventi pubblici sostenuti dalle aziende la situazione sociale rimane pesante con un continuo innalzamento del costo della vita sarebbe poi importante capire quanto questi eventi ridistribuiscono ricchezza e lavoro di qualità ai lavoratori insomma qual è il ritorno poi di questi investimenti e sarebbe veramente bello scoprire giriamo la pagina e andiamo sulla pagina di Pesaro dove l'attenzione viene posta sull'evento della giornata che non interessa solo Pesaro ma interessa un po' su tutta la provincia abbiamo un nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale si tratta di Alberto Carelli che prende il posto della Storti che sappiamo si essersi dimissionata per andare in pensione insomma poi ci sono dietro tutte le speculazioni che sono state fatte intorno a questa decisione all'aste inizia il dopo Storti Alberto Carelli il nuovo direttore generale la regione ha scelto il sostituto e l'attuale direttore amministrativo dell'azienda sanitaria di Fermo dunque ha una grande una grande esperienza ha 65 anni ed è avvocato originario di macerata avrà un incarico per 4 anni entrerà in servizio già da domani primo maggio Abemus dunque il nuovo direttore generale in servizio da domani è un grande esperto dei complessi meccanismi della macchina sanitaria ma avrà pane per i suoi denti perché sono molte le cose che devono essere messe a posto all'interno dell'azienda sanitaria locale della provincia di Pesaro Urbino lo attende dunque un impegno piuttosto tosto piuttosto difficile e deve ovviamente rimboccarsi le maniche facciamo solo qualche esempio per esempio deve portare a compimento la complicata fusione a freddo tra area vasta e azienda ospedaliera ancora non è del tutto definita e poi deve emettere le linee guida degli atti aziendali senza i quali ancora non si sa che cosa si farà dell'ospedale di Fano e che cosa si farà dell'ospedale di Pesaro insomma l'atto aziendale era quello che doveva fare la Storti e che aveva annunciato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini insomma è la Bibbia sanitaria che dovrà applicare la riforma ma solo con successivi step si potrà capire che ricaduta effettivamente avrà e poi c'è la partita delle cantiere del nuovo ospedale di Muraglia che si deve aprire per l'autunno ma prima dovranno essere definiti tutti i faticosi spostamenti dei reparti uno dei quali per esempio è quello di salute mentale che di per sé ha fatto parlare tanto i giornali con articoli proprio a questo argomento dedicati insomma avrà Carelli pane per i suoi denti per il suo lavoro e vediamo ancora la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico e vediamo qui che cosa ha deciso il Consiglio Comunale di Pesaro per quanto riguarda l'aumento della Tari in una situazione difforme rispetto a quello che ha deciso il Comune di Fano proteste ovviamente quando si tratta di aumenti ci sono sempre delle proteste proteste per gli aumenti della Tari abbiamo bloccato il rincaro al 4% o invece del 5-6 che è stato determinato da Arera Pesaro è riuscito a bloccare il rincaro al 4% a pagare di più saranno le imprese e le attività commerciali cosa che invece è stata sovvertita dal Comune di Fano dove le utenze domestiche hanno uno sconto minore rispetto a quello delle aziende e agli esercizi e ai negozi insomma le utenze non domestiche lo sconto applicato alle utenze domestiche a Fano è dell'1,2% per quanto riguarda le utenze non domestiche è del 2,2% quindi pagano di meno invece a Pesaro pagare di più sono imprese e attività commerciali dunque una decisione che era inevitabile perché poi le tariffe in realtà il Comune può fare qualcosa ma non può non fare nulla di fronte ad una decisione che emette che fa l'autorità nazionale e quindi questo era un provvedimento che doveva essere fatto comunque ci sarà un aumento sia quest'anno che il prossimo anno bocciata una nuova antenna del G5 a case Badioli bocciata dalla sovraintendenza e quindi l'autenna non verrà non verrà eretta la stessa cosa non verrà eretta sul Colle Ardizio un'altra decisione che è stata bocciata e di cui in questa giornata si dà l'annuncio sui giornali e vediamo come a Urbino ma in realtà Sant'Angelo in vado proseguono un po' le indagini in merito a quel comportamento trasgressivo di un sacerdote sacerdote sotto inchiesta per abusi nei confronti di una ragazzina che era vicina alla famiglia era minorenne all'epoca dei fatti è stata sentita dal PM Moccheggiani l'attenzione anche della procura svizzera che segue con grande grande attenzione questa vicenda e l'inchiesta ad essa relativa bene ciò detto passiamo ad esaminare il resto del carlino dove l'apertura piena pagina è dedicata all'autovelox e beh questo è un articolo che forse farà trarre un sospiro di sollievo a tanti automobilisti però esprime anche il rammarico di uno che è rimasto invischiato in una rete e quella appunto tesa dall'autovelox che comporta il pagamento di una multa piuttosto rilevante 140 euro di multa per eccesso di velocità ma qual è il casus belli qual è l'elemento che oggi fa rilevare questa situazione che poi tanti tanti automobilisti hanno pagato la multa per l'autovelox in questo caso si parla di quello sistemato nel rettilino di Metauriglia che fa veramente strage di automobilisti beh il fatto è questo d'ora in avanti tutti gli autovelox della provincia sono spenti sono spenti perché cosa c'è stato c'è stata una sentenza della corte di cassazione che ha cancellato il verbale di un automobilista perché l'autovelox che aveva sfornato la multa non era omologato ma solo autorizzato condizione questa espressamente imposta dal codice della strada ed è una battaglia questa che aveva intrapreso anche una onorevole un onorevole ora non più onorevole o non più deputato ovviamente della Lega di Fano che aveva così rilevato tante tante volte aveva fatto anche una battaglia in Parlamento per la regolarità di questi rilevamenti di velocità ebbene lui il giorno prima che gli autovelox fossero spenti deve pagare la multa quelli invece che fanno l'infrazione il giorno dopo non la devono pagare ebbene questa insomma è una situazione piuttosto ambigua ed è piuttosto insomma critica non è giusto che la sanzione sia stata inviata proprio ora che la polizia locale ha spento gli autovelox ha detto Renzo Moretti di Pergola multato appunto a Metauriglia a Fano e qua lo vediamo con la multa che gli è stata notificata insomma sono situazioni queste delicate che dimostrano un po' come poi la legge non è proprio uguale per tutti insomma bisognerebbe intervenire e parliamo anche dei lavori pubblici che si stanno facendo a Fano sono molti anzi qualcuno dice sono troppi si stanno prolungando anche durante la stagione estiva e allora che cosa accade conviene arrestarli conviene non farli conviene non protrarli così tanto sono tanti punti interrogativi che animano la campagna elettorale ebbene vediamo che cosa dice questo articolo i waterfront saranno pronti per i primi mesi di giugno l'assessore Brunori rassicura agli operatori in allarme per il disordine scatenato dai cantieri e Viale Battisti concluso a metà maggio sono queste le date che evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori insomma rassicura che il mese di giugno questo nuovo aspetto dei lungomare di Sassonia e di Torrette sarà finito insomma sarà ormai delineato e anche Viale Battisti questo viale che conduce dal centro storico di Fano in zona mare dove dovrà poi innestarsi con la nuova location della piattaforma che ha preso il posto dell'anfiteatro Rastat e insomma dovrà dare un nuovo colpo d'occhio a tutto il lungomare e poi parliamo di una iniziativa che si dilungherà per tutto il mese di maggio è la festa dei popoli siamo alla quarta edizione una festa organizzata dall'ufficio pastorale Migrantes con la collaborazione dell'amministrazione comunale ieri è stata presentata da Don Alessandro Messina che è il sacerdote incaricato dal vescovo appunto per dirigere il centro Migrantes un centro che favorisce ovviamente l'integrazione di tutti coloro che sono immigrati a Fano e cercano di integrarsi con la popolazione residente pur preservando la loro cultura le loro tradizioni perché poi questa è anche una ricchezza ebbene vediamo quali sono le iniziative si comincia venerdì prossimo con un incontro insieme all'avvocato immigrazione immigrazionista Paola Graziosi dal titolo minori stranieri non accompagnati e questo è un problema perché ci sono tanti tanti ragazzi sono una quarantina presenti a Fano che hanno bisogno di assistenza e ce l'hanno fin quando sono minorenni poi e poi c'è il nulla poi se la devono cavare da soli e spesso insomma qualcuno finisce nella sacchetta nel sacco della devianza perché poi non riesce a integrarsi con il lavoro con la casa in un sistema di accoglienza che dovrebbe essere predisposto dallo Stato e poi ci sono altre iniziative l'11 maggio all'Istituto Don Orione un laboratorio per un gruppo misto di 15 partecipanti a cura della regista Laura Fratiri ispirato al libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda sabato 18 maggio invece si svolgerà il secondo memorial Barbara Zenobi che prevede un torneo di calcetto e poi ci sarà la festa del 25 maggio con la festa all'attesa struttura del Lido e lì ci sarà veramente la kermesse di tutti i popoli con colori tradizioni gastronomia tutta la ricchezza che altre culture possono portare e investarsi nella nostra Mondolfo pensa in grande nuovo direttivo della Proloco ci sarà un nuovo presidente si tratta di Eros Massi che nell'ultimo quadriennio ha ricoperto il ruolo di presidente e con tutta probabilità si vedrà riconfermare l'incarico un nuovo direttivo della Proloco l'obiettivo l'obiettivo del prossimo quadriennio è rafforzare il legame con le scuole dove c'è un serbatoio veramente importante e concludiamo la nostra rassegna stampa con la pagina di Urbino per le gallerie di Cagolino e Furlo sono in arrivo 50 milioni di euro l'annuncio è stato dato dall'assessore regionale Francesco Baldelli il quale ha precisato che dopo il brutto incidente di dicembre sarà rifatto l'impianto di ventilazione all'interno della galleria tra Fermignano e Urbino e questa era l'ultima notizia a questo punto vi saluto e vi do appuntamento non domani perché è festa nemmeno il giorno dopo il 2 maggio perché i giornali non saranno in edicola ma il 3 maggio saremo puntuali per la nostra rassegna stampa grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto